oh 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 my goodness io vi ammazzerò tutti te anche te oh sei veloce amico oh non ho il latte posso farlo morire affogato in qualche modo aspetta raga non ho della lava con me per bruciarlo mi piacerebbe tanto dargli fuoco sono arrivati i suoi amici ecco tu da dove sbuchi vabbè posso farlo morire in qualche modo senza prendermi l'effetto possiamo fare così intanto avvicinati dai bravo ma spari com'è che spari di preciso raga avete visto come spara questo spara al contrario cioè spara dalla schiena anche se è girato dall'altra parte potremmo lasciarlo qui fargli finire le frecce così diventerà il mio animale domestico bene e adesso dobbiamo aspettare aspettiamo quanto cacchio dura la balestra ma deve finire le frecce o deve rompersi la balestra? aspetta non ho capito deve rompersi la balestra così sta durando un bel po' questa balestra non abbiamo fretta in realtà deve finire l'utilizzo della balestra e quanti utilizziamo la balestra? io dormirei dormo ho sonno ora oggi 15 minutes later muoviti deficiente a rompere certo che deve essere proprio stupido per continuare a sparare così au è per la scienza ragazzi ma quanto ti manca? ma c'è una balestra veramente incredibile cos'è? sei un mago? c'è indistruttibilità 100 più passa il tempo ogni freccia che spara l'odio sempre di più ha finito! non mi sono accorta ha finito! raga ha finito! bene adesso sembra veramente uno stupido seduto così raga vediamo cosa succede se lo liberiamo aspetta gli mettiamo una targhetta magari cosa scriviamo? animale domestico? Gino? Gianfranco è il pillager disarmato ma che nomi sono? ma a uno come lui un bel nome Gino non gli sta per niente bene è uno che merita il nome più brutto del pianeta veramente io direi il fallito è un fallito buongiorno spero tu abbia dormito bene in questa barca e da oggi in poi sarai il fallito ok? bene vedo che andiamo d'accordo sei libero dove va? che vogliamo fare? mi segui? ma c'è quella cosa in testa che copre il tuo nome però sta arrivando qualcun altro oh no tu che cosa ci fai qua? stupido adesso facciamo una cosa signor il fallito lei diventerà il mio maggiordomo ok? salga dentro la porto io dentro la casa ok ciao Vico appena scoleggiato molto bene sono contenta per te benvenuto mi raccomando tieni pulito va bene? vado bene missione compiuta va del vetro? si vedremo per quanto tempo starà qui dove è andato? ho già perso hello no tu non devi entrare qui dentro oh mio dio no 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 non sono stata qui un quarto d'ora e venti minuti per questo no raga ma perché devo fargli una tomba va bene dove metterla la tomba la mettiamo tipo facciamo qua poi dobbiamo fare così qui adesso dove lo mettiamo bello volevo mettere tipo la scala girata così così sembrerebbe tipo il bordo se no ho metto le lastre no 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 le lastre le lastre che che ho scoraggiato tutto bene? scoraggioni allora no 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 eh no sono venute a uccidermi a vendicare il loro capo che è morto qui ci sono diverse cose che io potrei fare potrei uno ucciderli tutti perché soppiate benissimo quanto io sia effettivamente forte due utilizzare il mio trick segreto faccio un sacco di barche li inserisco tutti dentro le barche mi stanno lì mi bruceranno a vivere il sole tre non faccio niente mi nascondo cosa facciamo? fammi finire la tomba scusate signori io sto cercando di commemorare il vostro amico scusatemi eh ecco così la tomba sembra una tomba che ne dite? vi piace? sì sì non è male no come no ci vuole la terra forse sembra un asdraio? sembra un lettino per prendere il sole? in quarzo? un lettino molto chic devo dire ma io direi che per un pillager va bene ci vuole un blocco d'erba tipo così possiamo mettere un fiore per commemorarlo mettiamo la terra va bene proviamo con la terra beh forse così sembra più una tomba avete ragione e il fiorellino dove lo mettiamo? qua? no no sta molto bene ci vuole un vaso tipo qua in parte non è vero per un pillager marcio no così va bene è già troppo quello che sto facendo vogliamo scrivere pure un cartello? no si arrangiano però forse sì no è meglio di no è meglio di no troppo importanza adesso dobbiamo dormire e decidere cosa fare con questi invece che sono venuti qui scriviamo il suo nome qui giace il fallito un bel fiore eccoci andiamo dove sono i suoi amici? sono scappati raga si sono spaventati mi sa che li ho li ho cacciati via con le mie chiappe dai allora a sto punto io andrei a cercare diamanti ne abbiamo bisogno raga dobbiamo farci l'armatura cosa vende lui? cioè per la terra tu mi chiedi tre smeraldi merdina questo è è un mondo nuovo che ho creato due settimane fa e i primi diamanti li abbiamo trovati e siamo già a 17 direi che non va per niente male ragazzi che cacchio ci cu au ma mamma mia mi dispiaggio tanto wow ma salve chi si rivede 19 20 22 e 25 abbiamo raccolto già tutto quello che ci serviva possiamo anche tornare indietro adesso adesso mi faccio l'armatura bella le scarpette pantaloni il casco il corpetto e mi avanzo un diamante ottimo tolgo questa armatura marcia e mi metto questa nice chiudiamo con una bella twerkata addio addio una bella twerkata grazie a tutti ciao Grazie.